Musica Calciatore ucciso chi ha visto parli posto sui social della sorella di Raffaele Perinelli ucciso a coltellate a Miano dopo una litte SS a chi è stato testimone dell'aggressione serve la vostra testimonianza per arrivare alla verità tentato omicidio preso minorenne operazione antidroga della polizia di Afragola a Caivano effettuati controlli e sequestri nelle piazze di traffico di stupefacenti intanto la mobile a Napoli ha arrestato un minorenne che a colpi di pistola tentò di uccidere un coetaneo in piazza 118 bocciata la mozione del Movimento 5 Stelle riorganizzazione del servizio d'emergenza sul territorio non passa in consiglio regionale l'iniziativa di Valeria Ciarambino puntavamo a ridurre i tempi di intervento di primo soccorso ma Graziano del PD la smentisce Avellino Bullismo in pieno centro è stato necessario l'intervento dei vigili urbani per soccorrere un 14enne vittima di un'aggressione da parte di una banda di minorenni il ragazzo è stato picchiato e derubato la denuncia del comandante Arbonio vedo rassegnazione nelle famiglie Frasso si cerca il DNA dell'assassino proseguono nel sannio le indagini sull'omicidio del pastore 45 anni ucciso a colpi di pistola a Frasso Telesino dopo aver scontato una condanna per abusi su una quindicenne accertamenti su chic, sangue e salire Suicida per video hot, musicista nei guai devono continuare le indagini sull'artista salernitano accusato di aver diffamato Tiziana Cantone su Facebook lo ha deciso il GIP del Tribunale di Salerno la giovane si uccise dopo che alcuni suoi video hard finirono sul web Buonasera dal TG 696 in apertura abbiamo la cronaca domani la convalida del fermo per l'assassino di Raffaele Perinelli ucciso con una coltellata al cuore a 21 anni ai microfoni di 696 TV lo strazio dei familiari che invitano i testimoni a raccontare cosa sia accaduto quella sera davanti al circoletto di Miano Simonetta Ieppariello in programma per domani davanti al GIP di Napoli l'udienza di convalida del fermo per Alfredo Galasso il 31enne accusato di aver ucciso sabato sera a Miano Raffaele Perinelli 21enne calciatore Galasso ha raccontato alle forze dell'ordine di aver reagito d'impulso di aver sferrato una sola coltellata contro il ragazzo durante una lite avvenuta all'esterno di un circolo ricreativo di Miano ma la famiglia della vittima non si dà pace io non piango ma combatto chiedo giustizia per mio fratello scrive in un posto commovente la sorella Francesca chiedo solo a chiunque volesse bene a mio fratello di aiutarmi e testimoniare non mi arrenderò mai, smuoverò il mondo e lotterò a costo della mia stessa vita queste le parole scritte su Facebook dalla sorella di Raffaele Perinelli che ieri aveva già parlato alla vita in diretta invocando giustizia leggendo una lettera che ha scritto ai giudici nessun perdono per l'assassino lo annuncia la madre del 21enne morto così tragicamente voglio fare un appello alla magistratura allo Stato voglio giustizia Alfredo Calas dici che ti sei pentito e che ti distrutto la vita tua e la vita di mio figlio mio figlio dopo un minuto che ci hai dato la cottellata non esiste più non sogna più non parla più non mangia più tu la tua vita non l'hai distrutta tu la vuoi recuperare solo per questo ti sei andata a consegnare aveva messo a segno una sparatoria in stile Far West con due pistole in pugno aveva colpito il suo bersaglio a incastrarlo le telecamere della videosorveglianza il pistolero ha solo 17 anni vediamo aveva sparato a un giovane in stile Far West pistola in pugno in sella uno scooter spara una raffica di colpi contro il suo bersaglio centrandolo al petto oggi la squadra mobile di Napoli coordinati dalla procura per i minorenni ha eseguito un'ordinanza del GIP di applicazione di custodia cautelare in istituto penitenziario minorile nei confronti di un giovane ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto lo scorso 13 maggio la vittima è viva per miracolo le indagini supportate da intercettazioni telefoniche ambientali dalle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza dei negozi del posto hanno consentito di individuare con certezza uno degli autori del tentato omicidio dalla visione delle telecamere si notano sopraggiungere in piazza Triste Trento in sella uno scooter proveniente da una vicina prefettura due giovani senza casco i quali giunti in prossimità della vittima si fermano in particolare mentre il conducente resta in attesa con il motore acceso il passeggero armato di due pistole per ciascuna mano solleva entrambe le braccia e fa fuoco esplodendo contemporaneamente i più colpi da entrambe le pistole impugnate all'altezza del torace della vittima e il quale trova rifugio in una Fiat 500 secondo la ricostruzione degli investigatori il movente potrebbe essere riconducibile a un contrasto tra organizzazioni criminali operanti al pallonetto di Santa Lucia e zona limitrofe per la gestione dello spaccio di droga sono in corso al momento approfondimenti investigativi per la definizione della posizione del complice del minorenne in consiglio regionale scontro tra maggioranza e Movimento 5 Stelle sulle aggressioni al personale del 118 bocciata la mozione pentastellata da Ciarambino durissime le accuse al centro-sinistra la replica dei De Lucchiani solo propaganda vediamo scontro in consiglio regionale sul servizio 118 il parlamentino ha rispinto alla mozione avanzata dal Movimento 5 Stelle sulla razionalizzazione del servizio di emergenza e urgenza durissimo il commento del consigliere Valeria Ciarambino per la quale i politici regionali al soldo di De Luca hanno dimostrato che i precompilati attestati di solidarietà agli operatori vittime di aggressioni sono pure ipocrisia e non c'è alcuna volontà di fare ordine fermo restando la condanna ad ogni forma di violenza la priorità, detto Ciarambino, per i pentastellati è riorganizzare il servizio nell'area metropolitana di Napoli il direttore della centrale operativa ci ha detto che i tempi di intervento medi sono di 28 minuti a fronte dei 12 minuti previsti dalla legge se lei ha un familiare che le sta morendo tra le mani e l'ambulanza non arriva lei magari non si arrabbia un po' quindi per me la vera tutela degli operatori del 118 si fa garantendo un servizio degno di questo nome nei tempi previsti dalla legge nei tempi per cui se è un infarto gli operatori che arrivano sono in grado di salvarti accuse rispedite al mittente dalla maggioranza con toni ugualmente pesanti l'unica cosa squallida e ipocrita vista oggi in Consiglio regionale è stato l'atteggiamento dei 5 Stelle che hanno messo in campo atteggiamenti strumentali le parole del Presidente della Commissione Sanità Palazzo Santa Lucia Stefano Graziano il 118 non è un tema di bandiera politica è un tema che riguarda tutti i cittadini della Campania per cui noi siamo impegnati come istituzione a risolvere ciò che riguarda tutti i cittadini campani la prossima settimana ci sarà una risoluzione molto articolata in Commissione Sanità che riguarda il 118 spiegheremo e tuteleremo le ragioni in particolare dei lavoratori che attualmente ci sono e anche come proporre soluzioni per reclutare nuove risorse le universiadi saranno una grande occasione per togliere i ragazzi dalle strade grazie al recupero di decide di impianti sportivi così il Governatore De Luca a proposito dell'evento sportivo del prossimo anno e lancia il monito per la sua città Salerno attenzione alle periferie pulizia le priorità da seguire le universiadi saranno una grande occasione per recuperare impianti vecchie e soprattutto avvicinare i più giovani allo sport è la grande opportunità che la Campania avrà di fronte con la manifestazione in programma il prossimo anno a Napoli e in tanti altri comuni ne è convinto il Governatore della Regione Vincenzo De Luca che ieri ha presenziato la consegna dei campetti sportivi alla parrocchia del Rosario al quartiere Mariconda di Salerno impianti sportivi di quartiere sicuramente è una delle strade che vogliamo seguire voi sapete che avremo anno prossimo le universiadi a Napoli e in Campania è un'occasione per rifare tanti impianti sportivi che già ci sono per realizzare i nuovi impianti sportivi per creare un movimento giovanile interessato allo sport è uno dei modi per aggregare i ragazzi e evitare che stiano in mezzo alle strade Per il Governatore è stata l'occasione anche per affrontare i temi della sua città in particolare l'attenzione alla riqualificazione dei quartieri e ad una maggiore incisività nella pulizia delle strade viste le molte lamentele dei salernitani Dobbiamo ritornare nei quartieri l'amministrazione credo sia preparando un programma anche di interventi piccoli ma significativi marciapiedi, pubblica illuminazione riqualificazione delle strade abbiamo una criticità che è la maledetta pulizia la regione ha approvato norme e dato risorse per stabilizzare a Salerno Pulita quasi 330 dipendenti il personale c'è è una questione di organizzazione Salerno deve tornare ad essere una città giardino e non è così in tanti quartieri Ed è allarme baby gang ad Avellino denunciati tre minorenni e un maggiorenne che hanno rubato uno zainetto e 5 euro a un 14enne decisivo l'intervento della municipale il comandante Arbonio dice episodio disgustoso le famiglie denunciano Bullismo nel centralissimo corso Vittorio Emanuele di Avellino ieri mattina tre minorenni tutti tra i 16 e i 17 anni residenti ad Avellino e un maggiorenne hanno rubato lo zaino a un 14enne all'esterno di una scuola di Viale Italia e sono scappati via palleggiandosi lo zainetto della vittima arrivati all'altezza della chiesa del Rosario lo hanno aggredito scaraventando a terra il 14enne e sottraendogli il portafogli con all'interno 5 euro subito spesi nel bar vicino l'episodio però non è passato inosservato e alcuni passanti hanno immediatamente allertato la polizia municipale che anche grazie alle telecamere di videosorveglianza ha individuato e denunciato gli autori dell'aggressione sono soggetti che già conoscevamo ma stavolta dichiara il comandante dei caschi bianchi Michele Arvonio il branco ha veramente esagerato i ragazzi vivono dei momenti veramente particolari abbiamo constatato quest'oggi la freddezza nel descrivere i fatti questo lascia veramente grande stupore colpire un bambino un ragazzino per pochi spiccioli con il branco veramente è qualcosa di disgustoso già da oggi pomeriggio sono stati intensificati controlli delle forze dell'ordine lungo il corso e Arvonio non manca di lanciare un appello alle famiglie e agli avellinesi c'è bisogno di una sinergia tra scuola famiglie e istituzioni per fare in modo che tutto questo non accade io vedo nei genitori anche una sorta di rassegnazione non bisogna pensare solo ai propri figli ma anche agli altri e quindi invito tutti a denunciare qualora ci fosse il minimo segnale di un bullismo di atti di bullismo a noi che prontamente possiamo intervenire e evitare questi disagi proseguono nel Zannio le indagini sull'omicidio del pastore 45enne ucciso a colpi di pistola dopo aver scontato una condanna per abusi su una 15enne vediamo avviati avviati gli esami biologici su due cicche di sigarette un sassolino ed un rametto reperti sequestrati la sera dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo il 45enne pastore di Frasso Telesino ammazzato con due colpi di pistola lo scorso 19 luglio nel Zannio a distanza di un mese dal momento in cui era uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna a 11 anni e 6 mesi perché è riconosciuto responsabile di abusi su una quindicenne che il 6 gennaio del 2008 si era tolta la vita impiccandosi ad un albero al centro delle indagini eventuali tracce di sostanze ematiche di saliva che potrebbero essere presenti sui reperti l'incarico al professore Ciro Di Nunzio è stato affidato dal GIP del Tribunale di Benevento Flavio Cusani nel corso dell'incidente probatorio chiesto dall'avvocato Raimondo Salvione difensore di Lucio Iorillo 58 anni operaio della comunità montana del Taburno papà della minore suicida e che allo Stato è l'unico indagato per il delitto il sostituto procuratore Francesco Sansobrino che dirige le indagini dei carabinieri aveva scelto i RIS per gli stessi accertamenti tecnici ripetibili ma l'iniziativa della difesa aveva determinato il trasferimento al giudice per le indagini preliminari dell'indicazione del perito che dovrà portare a termine il compito entro 90 giorni continuano le indagini sul musicista salernitano accusato di aver diffamato Tiziana Cantone su Facebook lo ha deciso il GIP del Tribunale di Salerno la giovane di Mugnano di Napoli si uccise dopo che alcuni video hot finirono sul web senza la sua autorizzazione vediamo il servizio il GIP del Tribunale di Salerno ha deciso di non archiviare l'inchiesta nei confronti di Antonio Foglia ex trombonista dell'orchestra sinfonica di Salerno allontanato poi in seguito alle sue dichiarazioni su Tiziana Cantone pubblicate su Facebook poco dopo il suicidio della donna da accertare se si sia trattato di diffamazione a presentare la denuncia querela Maria Teresa Giglio la madre di Tiziana che si uccise dopo che dei suoi video hot finirono sul web senza il suo consenso sotto accusa un posto pubblicato dal musicista originario di Giffone Vallepiana alle 23 e 30 del 13 settembre quel posto sulla figlia per la madre di Tiziana era lesivo per la memoria della ragazza il musicista avrebbe descritto il modo in cui Tiziana si era tolta la vita con un fular legato al collo augurando che accadesse anche ad altre ragazze adesso quelle come lei facciano la stessa fine aveva detto il PM della procura di Salerno ha chiesto l'archiviazione per il rifiuto della società americana Facebook di rilasciare informazioni in relazione agli utilizzatori del social e in considerazione che la legislazione statunitense non prevede il delitto di diffamazione il GIP però ha inviato ancora gli atti al pubblico ministero in modo che le indagini continuino è stato scoperto dalla squadra mobile di Avellino un giro di Coca e Ashish nell'Avellino Bene sei persone sono finite in manette tra cui anche una donna Coca, Ashish e marijuana nell'Avellino Bene è quanto scoperto dalla squadra mobile della questura che oggi ha dato esecuzione a sei misure cautelari nei guai sono finite persone note meno note le forze dell'ordine tra loro c'è sicuramente Giulia Cierno sessantenne serinese con un trascorso criminale piuttosto noto e la sua compagna l'inchiesta nasce da un fermo di un ragazzino che messo alle strette ha vuotato il sacco e dichiarato da chi comprava la droga si è messa in moto la macchina investigativa guidata dall'ispettore De Fazio tra gli arrestati anche Carmine Barbieri 41enne imprenditore avellinese Carmine Cucciniello Sebastiano Teresi e Bruno Cucciniello 66enne proprietario di un bar dove avrebbe tenuto contatti con gli acquirenti l'indagine durata oltre un anno si poggia su una larga mole di intercettazioni gli agenti hanno raccolto decine e decine di conversazioni tra i clienti molti professionisti avellinesi e tanti giovani dell'avellino bene a corroborare questa ipotesi anche una serie di appostamenti e sequestri come quello del 21 luglio del 2016 quando i poliziotti della mobile hanno arrestato Carmine Cucciniello con addosso oltre 100 grammi di cocaina l'indagato era stato catturato dopo una rocambolesca fuga a bordo della sua Mercedes secondo le intercettazioni e i dati relativi al GPS Cucciniello aveva comprato la droga ad Ottaviano a maggio dello stesso anno la polizia aveva messo le manette a Bruno Cucciniello dopo avergli sequestrato oltre 100 grammi di asce e tre bustine con più di due grammi di cocaina il sequestro era avvenuto durante una perquisizione nel bar gestito dall'indagato salgono a due le vittime del tragico incidente di domenica sera nel Sannio è morto il bimbo che la donna coinvolta nello scontro portava in gare vediamo si aggrava il bilancio del già drammatico incidente stradale avvenuto domenica sera lungo la statale 88 che da Benevento conduce a Campobasso dove aveva perso la vita Nicola Vigliotti il trentenne originario di Fragneto Monforte che viveva a Morcone nella tarda serata di ieri è morto anche il bambino che la donna a bordo dell'Audi portava in grembo da circa sette mesi troppo gravi le ferite riportate dal feto nello scontro tra l'appunto condotta da Gagliotti e l'Audi guidata dal padre della donna incinta sulla quale viaggiava anche un altro bambino una famiglia originaria di Mirabella che stava rientrando in Espiglia la donna resta ricoverata in prognosi riservata al fate bene fratelli sta meglio invece il padre che guidava la Q3 sarà invece operata al Santo Bono di Napoli la figlia della vittima rimasta ferita al pari del fratellino che per fortuna nella serata di ieri è stato dimesso sono intanto in corso le indagini della polizia stradale per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti intervenuti per i rilievi sono al lavoro per stabilire cosa abbia provocato lo scontro frontale intanto si è in attesa della decisione del magistrato Francesco Sansobrino della procura Samnita che conduce le indagini per quanto riguarda l'autopsia del trentenne non è escluso che l'esame autoptico possa essere disposto tra giovedì e venerdì prossimi Al microfono del canale 696 il presidente di Salerno Mobilità Massimiliano Giordano illustra il piano per i parcheggi per i turisti in vista di luci d'artista i dettagli discussi stamattina in vertice in prefettura Prima riunione tecnica in prefettura Salerno per l'organizzazione di luci d'artista confermate le linee guida dello scorso anno con l'obiettivo di limitare al minimo i disagi in attesa di definire il piano della sicurezza è già chiaro il dispositivo per accogliere i turisti ed in particolare i bus ed i camper come spiega il presidente di Salerno Mobilità Massimiliano Giordano Accoglieremo dei bus turistici che sono una delle voci più importanti degli arrivi della manifestazione di luci d'artista nelle tre grandi aree utilizzate anche negli anni precedenti e quindi l'area di Via Ligea e Via Porto per una prima parte di arrivi quella di Vinci Prova e poi una volta riempite queste quella della Ricchi dove poi i turisti potranno utilizzare il sistema delle navette e della metro per arrivare al centro abbiamo riproposto poi la stessa tipo di tariffazione di scontistica per cui tutti i tour operator che organizzeranno ovviamente le visite dal lunedì al giovedì godranno di uno sconto del 50% questo ci consentirà in qualche modo di spalmare gli arrivi un po' su tutti e sette giorni della settimana e non esclusivamente nel sabato e nella domenica sarà poi attrezzata come l'anno scorso l'area camper situata nella parte retrostante del parco del mercatello nelle vicinanze della stazione della metro in modo che i visitatori che vorranno venire con il proprio camper avranno poi la possibilità di utilizzare la stazione della metro per arrivare al centro e confidiamo che il sistema che ha dato buoni risultati e buoni frutti l'anno scorso ovviamente abbia gli stessi esiti anche quest'anno La logistica come leva per la crescita del mezzogiorno se ne è discusso in un incontro presso la sede degli industriali a Napoli Un confronto sulla logistica come leva fondamentale e distintiva per la crescita e la competitività del settore agri-food si è tenuto oggi nella sede dell'Unione Industriale di Napoli Noi abbiamo individuato tre parole chiavi nel mondo della logistica a conto terza in termini di innovazione anzitutto la sostenibilità l'attenzione all'impatto ambientale e sociale e qui gli operatori logistici stanno portando dicendo la loro Mercitalia con i nuovi treni e così via tante innovazioni tecnologiche e digitali che permettono alla filiera estesa dalla produzione a monte se pensiamo all'agri-food fino al consumatore di essere totalmente integrati e poi servizi logistici a valore aggiunto cioè l'operatore logistico che supporta l'azienda le iniziative di e-commerce nella produzione nelle fabbriche nella gestione delle scorte nella gestione della rete distributiva Dalla visione generale dello scenario logistico del settore agroalimentare alle scelte di investire al sud noi siamo presenti nell'interporto abbiamo creduto fortemente nello sviluppo del sud Italia abbiamo cercato di collaborare sul territorio portando valore necessità tema dell'incontro anche l'operatività delle ZES in Campania la ZES è un elemento fondamentale di sviluppo potenziale per la Campania e va sostenuto con opportuni interventi di incremento di accessibilità sia interna sia mercati internazionali infine l'analisi degli importanti numeri raggiunti nella logistica per l'interporto sud Europa sviluppiamo attualmente 3.000 treni all'anno e circa 200.000 camion all'anno entrano e escono dalla nostra struttura ovviamente non siamo soddisfatti perché l'interporto sud Europa ha la capacità e la voglia di investire ancora e di aumentare i propri traffici i vertici di industria italiana autobus annunciano la convocazione dell'assemblea straordinaria che il prossimo 9 novembre dovrebbe dare il via libera al piano di rilancio nelle prossime ore la società convocherà a un tavolo tecnico i soggetti che hanno manifestato la volontà di risolvere definitivamente la vertenza al fine di determinare con certezza modalità e cronoprogramma del loro annunciato intervento onde arrivare alla data del 9 novembre con la soluzione già adottata il sindaco di Benevento Clemente Mastella in Terra Santa ha incontrato a Betlemme il sindaco a settembre dello scorso anno insieme firmammo a Palazzo Mosti il documento impegno per la pace il dialogo e la cura del creato ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo Sannita ed è stata questa l'occasione per rinnovare l'auspicio che si possa raggiungere presto una coesistenza pacifica e solidale tra i membri di etnie culture e religioni diverse ma è stata anche l'occasione per ricambiare la visita che il sindaco di Betlemme fece a me in città e che oggi ha ricordato con piacere per la calda accoglienza ricevuta a Benevento abbiamo parlato inoltre delle comuni difficoltà che tutti i sindaci hanno il primo cittadino un mese fa ha avuto un attentato e a lui va la mia piena vicinanza e solidarietà ha concluso Mastella dal 12 al 14 ottobre ad Ariano Irpino la fiera del gusto mediterraneo turismo rurale ed enogastronomia per valorizzare le aree interne la gastronomia e l'enogastronomia con tutte le possibili implicazioni legate alle specificità del territorio al turismo ai servizi e alla qualità della vita e dell'ambiente saranno protagonisti alla fiera del gusto mediterraneo in programma dal 12 al 14 ottobre presso il centro fieristico della campagna di Ariano Irpino di proprietà della comunità montana dell'Ufita è una bella iniziativa noi come comunità montana stiamo favorendo questi eventi da poco si è conclusa l'altra fiera Sud Expo ed è stato un successo un grande successo domenica c'erano tanti di quei visitatori ed è stata per noi una grossa gratifica la manifestazione è stata organizzata dalla società Fiere ed Eventi che ha deciso di valorizzare le produzioni locali inserendola in un contesto più ampio che coinvolga la promozione del turismo rurale e lo sviluppo dei prodotti biologici una fiera legata al territorio legata alle aree interne della provincia di Avellino e Benevento si parla di cibo si parla di turismo rurale in un centro feristico della comunità montana dell'Ufida che sta diventando sempre di più un acceleratore d'impresa ci saranno 22 aziende selezionate dalla Camera di Commercio e ci sarà lo stand della Regione Campania presente anche la cliterra della Regione Campania con il primo festival dell'agricoltura e del consumo consapevole inteso come una collaborazione e un'intesa tra i produttori del mondo agricolo e i consumatori che devono conoscere bene quale differenza c'è tra un prodotto naturale e un prodotto trattato e il Tg termina qui grazie di averci seguito vi lascio alle previsioni Meto e poi Tg Sport Il Tg Sport Grazie a tutti.